Allora, un video che mi sono ritrovato a fare perché credo che sia meglio farlo prima che le notizie cominciano a girare e diventare disinformazione come sta realmente accadendo. E come avete visto, non so perché alcuni ne stanno parlando in modo molto timido, sono stato accusato dal telegiornale, dalla Repubblica, di una probabile evasione di 2 milioni di euro di aver fatto qualche magagna, se così si può dire. Allora ho detto facciamo questo video così spegniamo subito questo fuoco di paglia, ho visto pure che molte persone infatti non ci stanno credendo a quello che è stato detto perché vi posso dire una cosa molto divertente, io ho qui i verbali, davanti a me non ve li posso far vedere però ho qui il verbale, in questo caso della Guardia di Finanza e Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e un altro dell'Agenzia delle Entrate. In questi due non c'è nessuna accusa di reato, di evasione fiscale, non c'è niente di tutto questo. In verità quello che c'è scritto qui dentro è che è stato fatto un processo, in questo caso di constatazione, perché volevano sapere dove prendevo i soldi, da dove li prendevo, quindi vari pagamenti che possono essere Twitch, YouTube, gli abbonamenti, codici che supporta un creatore, gli advertisement, le pubblicità, la creazione magari di, non lo so, merchandise, collaborazioni e così via. E poi come fatturavo i soldi, in cosa spendevo i soldi della società e così via. La mia fedina penale è pulita, non c'è nessun capo d'accusa, non ho evaso niente. In verità perché è stata fatta questa cosa? Ve lo spiego io perché avete visto che sono stato parecchie volte in Senato alla Camera dei Deputati proprio per regolamentare il lavoro del content creator, questo perché c'è una grandissima confusione attualmente per lo Stato italiano, per la tassazione e questo è stato fatto su vari creator, credo quindi non solo su di me, per capire come funziona in questo caso la monetizzazione, i nostri guadagni, le nostre uscite eccetera eccetera. Io ho una partita IVA e una società, come sapete per la società è tutto pubblico tra l'altro, quindi si ha la banca, si ha tutte le informazioni di bilancio e così via e non c'è stata nessuna evasione fiscale da come si vince da questi documenti, quindi direte e allora cosa è successo? Perché è uscita fuori questa notizia? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, io non so perché la RAI abbia fatto quel servizio citando me, non posso parlare ovviamente per le altre persone ma parlo di me che sono stato citato, io non so perché Marco Carta e Giuseppe Scarpa hanno fatto questa notizia e vi leggo. Ma di che si tratta? Federico Betti in arte Mike Scioscia, 33enne romano, stessa città in cui è nato e vive al 30enne Giorgio Calandrelli, si tratta di Power. L'ultimo dei romani è il 28enne Cristiano Spadaccini, il suo nickname è Zano, 17esimo. Al pacchetto di streamer Capitolini si aggiunge anche il Livornese Andrea Chimi, 32enne, che si è autobattezzato Home Adol Sui Social. In comune i quattro hanno il faro degli specialisti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, che hanno incrociato ingressi, uscite, contratti e denominazioni delle rispettive società, fino a scoprire un possibile mancato pagamento delle imposte da 4 milioni e mezzo di euro. Poi, continua questo, che a fare la parte del leone in questa verifica delle fiamme gialle sarebbero Betti Mike Scioscia e Calandrelli Power. Nei loro confronti gli investigatori ipotizzano un'evasione che si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro a testa. E io vi posso dire che ho qui proprio il verbale di constatazione, dove sono andati ad analizzare quelle che erano le mie entrate, le mie uscite, come fatturavo, quando fatturavo in partita IVA, come società, con chi lavoravo e così via. Non è stato trovato nessuna evasione fiscale. Quindi non sono un evasore fiscale e non so perché siamo arrivati a questa notizia di Giuseppe Scarpa sulla Repubblica. Ma non è fina qui. Perché dall'altra parte la notizia continua con Marco Carta, che scrive Terribile disinformazione, specialmente prendere una frase decontestualizzata di una mia intervista in cui parlo del fatto che io sono andato a giocare fuori dall'Italia, per i fanatic, sia per quanto riguarda i contratti che vengono fatti ai giocatori professionisti e alla loro tutela, perché capita molte volte che i contratti che vengono fatti ai giocatori professionisti italiani non vengono pagati, vengono licenziati e vengono bloccati per anni addirittura sotto un nome e non possono uscire in nessun modo dei contratti estremamente eleganti. Poi per quanto riguarda fuggire dall'Italia, io vivo da sempre in Italia, ho la residenza in Italia, la mia società è italiana con una banca italiana, quindi no. Ho vissuto sia all'estero per un periodo, ho lavorato all'estero, ho lavorato a Colonia per ISL, per la Call of Duty World League, che ho fatto il caster per loro e l'analista, poi ho lavorato anche in Francia per un periodo dove ho fatto il brand manager per un brand lì, ma l'unica cosa che uno mi può dire è una grande quantità di tasse. Beh, è vero, ho vissuto un piccolo periodo, ho un'esperienza lavorativa in Germania e in Francia e ovviamente la tassazione è diversa, ma io ovviamente avevo la partita IVA e quindi tassavo tutto poi qui in Italia. Quindi che cosa sta succedendo? È stata fatta questa indagine e una volta fatta questa indagine non è stato dato niente al riguardo, se non secondo loro una problematica tra il fatto che alcune cose dovevano essere tassate con la partita IVA invece che la società e altre cose con la partita IVA dovevano essere tassate con la società. E quindi, dato che non c'è ancora chiarezza, l'agenzia delle entrate vuole che andiamo a far vedere quello che abbiamo fatto e niente, il massimo che può succedere è applicheranno una sanzione, una sanzione che si aggirerà intorno a una cifra, se non sbaglio, di quattro cifre. In tutto questo, durante le varie indagini, si è scoperto che io ho pagato più soldi di IMSS di quanti ne dovevo pagare e ora lo Stato mi deve una cifra a cinque cifre. Quindi no, non sono un evasore fiscale, non faccio niente di tutto questo. Allo stesso tempo nel servizio della RAI un certo Gianluca ti impone... Il loro mondo è sicuramente virtuale, ma le tasse sono reali. Spesso quando iniziano lo fanno per gioco, poi incassano moltissimi danari che immettono in conti esteri, Paypal, oppure li utilizzano in criptovalute. Però il fisco prima o poi se ne accorge, soprattutto quando quei soldi vengono disinvestiti. Non esiste per gli influencer una normativa specifica. Vengono equiparati a lavoratori autonomi. Debbono, gioco forza, versare le imposte. Dice che noi creator diventiamo famosi velocemente, guadagniamo tanti soldi velocemente e non sappiamo come tassare, come riuscire ad essere legali. Dice che abbiamo conti esteri, che investiamo in criptovalute. Io non ho criptovalute, io non investo in conti esteri. I miei soldi che derivano dai pagamenti non vanno su Paypal o altre società con banche estere o online. Vanno in questa banca italiana. Non faccio investimenti in azioni o asset in altre cose. Quindi devo dire che qua il buon Gianluca d'Impone, Marco Garta e Giuseppe Scarpa hanno preso un grandissimo granchio e pure perché dalla mia parte ho ovviamente tutta la documentazione di verbale e roba varia. E tra l'altro, come vi ripeto, sono verbali, proprio processo verbale di constatazione. Quindi non c'è nessun capo d'accusa, non c'è nessuna fedina penale sporca, non ci sono punti evidenziati dove ho truffato o fatto illegalità. oppure perché se avessi evaso due milioni di euro, le posso dire che probabilmente ora era in manette che stavano cercando dove avevo nascosto questi soldi che avevo evaso. Il mio tesoro. Prendetelo pure se volete. Cercate. Chissà se qualcuno di voi lo troverà. Errore Bibbia o a Regina Cieli, invece sono ancora qui. Posso sempre utilizzare i social, posso fare la mia vita normale come sempre. Niente, quindi ci tenevo a dire questo perché odio tantissimo le bugie, vengo da un periodo difficilissimo della mia vita pieno di cose negative e brutte che mi sono capitate personali. E una notizia del genere mi ha un pochino buttato giù. Devo essere sincero, mi ha fatto sentire come se fossi bullizzato. Non so perché, anche se in verità ho visto che non gli è stato dato molto adito. Sinceramente devo anche tutelarmi da queste cose, da queste persone che scrivono queste cose. Ovviamente voglio che sia chiaro questa cosa. avendo tutta la documentazione e non essendo successo niente ed essendo anche stato attivo politicamente, se così si può dire, per questa cosa di content creator al Senato, alla Camera dei Deputati, pure perché se fossi indagato e tutto il resto non avrei potuto certo presentarmi o espormi. Quindi niente, ho tutta la documentazione e ora ci divertiremo a vedere che cosa avrà da dire sia la Repubblica che la RAI rispetto a quello che hanno fatto. Quindi that's all e spero che abbiate capito. Grazie. 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 Grazie.